Ibrahimović, c'è tutta la magia del calcio in questo gol, tutta l'emozione del pallone, tutta l'arte dei giocatori. Pirlo cercherà di sfruttare al meglio questa occasione. Pirlo, Pirlo, il reo del calcio. Pirlo, 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 Pirlo. Tra persone in arrivo. Conclusione del volo. Che gol, spettacolo, che gol. Tutti si preparano a saltare. Prova ad arrivare in cielo e la mette dentro. Hanno voluto fortemente questo ennesimo vantaggio. Gian Colla, Vole Adame. Fantastico Gian Colla. E così è il come back perfetto. In it comes. Burry! Wonderful header! A goal with a splash of style. Oh, shooting chance! That's! That is some save from Gibbons! And he's pulling the ball! It's not complicated! Van der Barre... ...on palma! What a genius of Van der Barre! Definitely done! It's Keane! Sensational from Robby Keane! And that is surely it! Come on! Yeah! Come on! You like that? You like that? Yeah! You like that? You like that? You like that? You like that? Oh, man! The freestyle of Fischer Due! Extrop with midnight! Check that mic! Make sure to sound right Boy! Want you give me that beep pep unh Want you give me that beep pep unh Or should you give me that beep pep unh Ooh, 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 ooh! Wanna you give me that beep pep unh Want you give me that beep pep unh HO onion, chummy the beep pep unh One should give me that beep pep unh Konami